Salve a tutti, oggi commenti di Pogianiti per il più facile il punto EU, per fare il punto della situazione su quanto è accaduto a Wall Street nell'ultima serata. Crollo generalizzato, però in un certo senso era piuttosto facile aspettarsi una cosa di genere, giusto Filippo? Sì, innanzitutto, ciao Rossana e bentrovata. Vado a condividere lo schermo, qui siamo su SP500, grafico giornaliero. Sì, come hai detto giustamente tu, ieri i ribassi generalizzati, in realtà un po' su tutte le piazze, sia americane che europee, poi chiaramente Wall Street al solito traccia la strada. Qui i mercati stanno scontando diversi fattori, innanzitutto sul contesto macroeconomico sicuramente pesa la risalita della curva dei contagi in diversi stati, quindi si teme una seconda ondata di coronavirus. In più ci sono anche le stime caute della Fed su quella che è la crescita dell'economia USA con solito attacco di Trump annesso. Ma in realtà il fatto è che i mercati stanno scontando anche diversi fattori dal punto di vista tecnico, quindi in un certo qual modo era lecito anche attendersi un ribasso di questo tipo. E questo perché? Perché appunto noi analisti tecnici e traders, diciamo ecco monitorando il mercato, comprendendo quelle che sono le dinamiche tecniche, in realtà questo stop ce lo aspettavamo. E questo perché? Perché innanzitutto l'ultima volta, se ti ricordi, abbiamo parlato di un target per l'SP500 che era quota 3100 punti, dove appunto era presente un'area resistiva particolarmente significativa. E qui il mercato ha fatto insomma fino a 3200, però comunque sia ha fatto il classico movimento di estensione, il classico movimento di esaurimento. Ma ancor più, quando è che è arrivata questa inversione di tendenza, è arrivata in prossimità della scadenza tecnica. Sappiamo che venerdì prossimo scadono i principali contratti future, anche se sappiamo che il grosso del rollover per quanto riguarda gli estini di Wall Street avviene o meglio è già avvenuto a partire da questa settimana. Già da oggi il contratto più scambiato è il future di settembre e quindi a livello tecnico ci sta, come spesso accade, che post scadenza tecnica il mercato vada ad invertire la rotta. Detto questo, il movimento a ribasso si è già esaurito? A mio avviso no, nel senso che il mercato oggi sta provando un recupero. Però ritengo che in caso di arrivo del mercato a quota 3100, 3100 possa essere nuovamente venduta, quindi tanto per capirci sui livelli mediani di questa barra ad ampio range di ieri. Un possibile punto di arrivo del movimento attuale ritengo possa essere di contro quota 2900 punti. Qui sì che invece mi aspetto all'interno di questa area di congestione, qui c'è un'area supportiva molto forte, che è l'area appunto compresa tra 2009 e 2770 punti. Qui c'è un'area supportiva molto forte, quindi in caso di arrivo del mercato su questi livelli di qui mi attendo una reazione in un contesto che a mio avviso è ancora favorevole nel medio periodo. Tutto chiaramente cambierebbe a fronte di una close giornaliera, meglio ancora settimanale, al di sotto di quota 2770 punti. Perfetto Pico, io ti ringrazio per i risultati e con te rimando l'appuntamento alla settimana. Grazie a te Rossana, arrivederci a tutti.